Ah ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Magnus, siamo sempre qui con LEGO Star Wars e il risveglio della forza dobbiamo completare tutti i livelli al 100%, abbiamo finito la storia ma ci resta soltanto l'ultima parte ma prima di fare ciò volevo salutare due carissimi amici, sto parlando di Scorpon Daniele e Alex Velico bro spero che questo nuovo episodio al 100% vi piaccia, quindi non ci perdiamo il chiacchere, dedichiamoci all'epilogo, l'isola di Luke, ne abbiamo, ah uno l'abbiamo già beccato, vabbè quindi comunque è cosa buona però il mattoncino rossa non l'abbiamo prende, quindi ci troviamo sempre sull'isola di Luke, vediamo se ci fa scegliere, ok, come potete vedere abbiamo preso tutti i vari personaggi ci prendiamo il generale Gravius, volevo vederlo un po' in azione, speriamo di utilizzarlo alla grande, veicolo naturalmente sicuramente no perché questo è un episodio abbastanza abbastanza piccolo quindi diciamo che dovremmo stare attenti perché di minicriti ce ne sono sempre 10 però gli spazi sono limitati quindi ce ne saranno una marea comunque ci dedichiamo anche in questa fase all'isola di Luke, naturalmente il gran finale, l'episodio da prima andate da vedere comunque la base Starkiller è stata distrutta e con lei la minaccia del primo ordine sul pianeta GAR R2D2 si è riattivato e rivela i dati presi dagli archivi dell'impero con questi dati la resistenza può finalmente assemblare la mappa che porta a Luke Skywalker per calapetta, comunque Ray, R2D2 e Jubekka si preparano a ritrovare il maestro Jedi e con lui una nuova speranza naturalmente forse Ray l'utilizzeremo ma sicuramente R2D2 e Jubekka no perché noi abbiamo scelto il nostro fantastico generale ci sono una marea di cose che ho scoperto con i vari mattoncini quindi attenzione seguitemi andatevi a vedere anche i prossimi video perché ci sarà da scompisciarci dalle risate comunque i titoli di coda stanno per terminare mi raccomando attenzione ci sono 10 minikit o meglio 9 perché uno l'abbiamo già beccato e il mattoncino rosso dai vediamo un po' ah ok partiamo subito senza perfetto ok allora forza generale mi raccomando non facciamo brutta figura ci abbiamo anche Ray al fianco allora iniziamo subito che qua già penso di aver visto qualcosa è infatti così è quindi ci conviene beccare tipo un akbar perché deve penetrare là dentro cavolo già abbiamo già praticamente trovato qualcosa di buono vediamo un po' oh cavolo bravo akbar e stiamo a 2 perché uno l'abbiamo già beccato l'ho detto già 7 volte allora là c'è un gancio quindi secondo me vediamo se il mio è in grado anche di tirarlo bravo attenzione che c'è qua aspetta questa forse è pure un altro è un altro minikit yes altro minikit e stiamo a 3 bravo ragazzi vabbè qua ah dobbiamo stare attento qua eh perché qua ce ne stanno alcuni allora andiamo un po' qua non ci sta niente penso no qua non ci dovrebbe stare niente perfetto allora andiamo qua per capire questo c'ha 30 spade qua dentro allora qua dentro oh cavolo ce ne sta anche già un altro ok siamo quindi già a 4 non penso che qua vada bene lei ci dovrebbe ma qua non è che forse troviamo qualcosa no eh io non credo eh comunque non devo stare molto attenti perché ci sta infatti così è mi dai rei? brava rei vai allora là c'è qualcosa aspetta qua c'è qualcosa eh aspetta un po' non vorrei che magari dobbiamo trovare qualcosa anche qua attenzione vai ah ma tanto qua questo serve soltanto per far passare quello dall'altra parte vabbè quindi possiamo tranquillamente avanzare tanto lo facciamo schizzare dall'altra parte allora attenzione all'uccellino eh non vorrei che ce lo dimentichiamo allora di qua c'è qualcosa vai rei vai ok fantastico brava rei fantastico allora se non sbaglio ho visto qualcosa attenzione rei che stai cadendo sì allora attenzione ti ho visto cadere là ce ne sta qualcun altro bravissimo ne ho visto un altro cavolo ce ne sono una marea eh sempre 10 ce ne stanno eh vai saltiamo anche di qua e andiamo avanti non ho visto ancora l'uccellino attenzione queste sono ancora di qua vabbè tanto possiamo utilizzare sempre lei perfetto avanziamo di qua a qua non credo che ci sia qualcosa non credo proprio e infatti così non è allora datemi un attimo il generale se no a che cavolo abbiamo preso a fare vai qua non c'è niente eh sono in dubbio perché credo che sì infatti così è bravi quindi in pratica il generale è considerato anche uno forte tipo alla giubecca allora iniziamo a vedere se qua dobbiamo fare qualcosa perché qua penso che ci sia qualcosa yes ok perfetto tira giù di qua ok allora per adesso penso che non ci sta niente anche di qua perfetto vai un attimo ehm ray perché qua penso che sicuramente c'è qualcosa eh aspetta qua aspetta che adesso ci becchiamo un attimo vai vediamo se c'è qualcosa qua dentro no non c'è sta niente no ci sta ah no pensavo che fosse un uccellino là no non c'è niente allora dammi subito ray ray di qua vai ray vai lancia la mazza e vai che fai che ha di allora ray iniziamo a compiere atti sbagliati vai allora ray ti ammazzo se non salti bene vai vogliamo saltare bene o non vogliamo saltare ah ok a volte ci metti 20 minuti per far una cosa allora qua dovremmo andare tranquilli ma qua non ci sta niente perfetto eh no aspetta che dobbiamo costruire l'altra parte non scendere ray aspetta resta là eh che secondo me perfetto vai in maniera tale che adesso possiamo spingere quest'altra parte anche se obiettivamente non è che servirebbe a poco però vi faccio vedere perché casomai restate blocchiati questo è il punto che cavolo sei sceso a fare eh vabbè si saltiamo insieme vai vabbè andiamo avanti dammi sempre il generale cerchiamo sempre di scartarlo questo generale allora qua c'è qualcosa secondo me allora per adesso ancora non ho visto l'altro uccellino dove sta allora qua non è che c'è qualcosa vieni un attimo ray vieni allora rompiamo prima qua vediamo se c'è qualcosa qua sopra non c'è no c'è qualcosa infatti bravo vai generale costruisci un attimo questo appiglio perfetto e tira ok rotto tutto che c'è qua dentro niente ok attenzione che abbiamo costruito qualcosa per la base vai ah ok perfetto quindi così adesso possiamo incamminarci tranquillamente avanzare qua penso che non ci sia niente no no non c'è niente quindi avanziamo e saliamo ok la ne ho visto uno eh si ci dovrebbe servire ray perfetto scusami ray aspetta aspetta che di qua ce la fai a saltare di qua no ok bravissima ray e ci becchiamo questo qual è numero 7 bravissima allora ma come sta l'altro uccellino no mi sto preoccupando eh perché non vorrei che magari ne perdiamo qualcuno eh attenzione di qua allora qua mi sa che ci vuole qualcuno della forza dove sta vai non è che c'è qualcosa qua eh no no non c'è niente ok allora qua dobbiamo scendere giù attenzione qua là ci siamo già stati perfetto allora avanziamo prima da quest'altra parte perché magari riusciamo a beccare qualcosa qua dentro perché secondo me l'uccellino sta tipo nascosto allora qua mi sa che ci serve però prima dobbiamo fermare la parte di giù dammi ray ray vabbè no 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 generale non c'è bisogno che ci segui eh aspetta questo non ha capito una mazza deve andare dall'altra parte deve andare ray dai devi restare giù porca miseria vabbè dai facciamo così vai agganciato un attimo e tira vai perfetto oh l'uccello ancora non l'ho visto eh sono un po' ambigua a dire queste cose ok vai un attimo ray da questa parte non dovresti avere problemi vai fantastico ok mi fai saltare mi fai saltare ok questo l'abbiamo grappato non ce la fai generale tu muori da là eh uh attenzione vai qua oh cavolo stavamo perchedendo ok meno male che ray è in gamba ok ultime parole famose allora qua vediamo un po' se c'è qualcosa allora là sicuramente c'è qualcosa è la dita aspetta che adesso costruiamo la zona per far passare anche il generale vai generale vai vai ray vai ok catapunta infernale realizzata aggancio totale spingi dall'altra parte ok vai vai butta tutto giù e così ci facciamo avanzare anche nostro carissimo generale generale può avanzare ma che è è il ray che salta vabbè dai lasciamo perdere allora qua penso che aspetta un attimo aspetta un po' allora qua no allora vediamo un po' si ti serve penso che vada bene anche lui no ah no vuoi per forza dart water perché vuoi per forza dart water aspettate un attimo perché qua non ho capito perché cerca per forza vabbè come ah ok vai vai vediamo che c'è qua dentro piano eh dart che c'è qua dentro non c'è ah ok dobbiamo entrare allora mi serve bb8 qua eh aspetta un po' vai di qua vai penetra entra che ci troviamo qua sopra mattoncino rosso alla gran scusami bb8 non l'ho fatto apposta ti ho praticamente scaraventato giù allora ci becchiamo sempre generale aspetta là c'è qualcosa eh qua non c'è niente ma dove sta cioè tu stai ancora a saltare ma porca baletta ragazzi questo sta ancora a saltare eh resta no no generale da quest'altra parte mi raccomando è utile che ci perdiamo tutto questo tempo generale venga di qua venghi ok ce la facciamo che palle generale forza generale ci diamo la mano vai vai forza spingi spingi ma non spinge bene però eh spinge tutto storto ah l'uccello l'ho visto che sta là ok dovremo tranquillamente avanzare anche se veramente ce ne stanno tre generale ce la fa passare no ok allora ce la fa passare generale si vabbè ok io direi di cambiare perché il generale l'ho visto un pochettino in baranatello qua sopra eh vai vai salta vai 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 re vai e vai re vai vai re vai ok qua non c'è niente allora generale mi serve lei ok tira perfetto che qua forse possiamo trovare ah no allora dobbiamo beccare qualcosa qua dentro aspetta un attimo che qua forse mi serve qualcuno con la forza vai vai ok che c'è qua dentro qua c'è qualcosa aspetta cavolo l'avevo sbagliato dovevo lanciarlo o non l'ho lanciato vai ce la fai ok perfetto allora ce ne sta ancora un altro e andiamo con l'otto ok ce la fai avanzare yes questo è un altro uccellino e stiamo a due o ce ne manca un altro quindi attenzione qua mi pare che non ci sta più niente questo è ancora qua giù che facciamo lo facciamo salire da solo si lo lasciamo lui da solo da qua aspetta che qua c'è qualcosa aspetta che qua c'è qualcosa si vai fasma dovresti andare bene tu se spari magari forse non è una cosa negativa anche stiamo perfetto quindi anche questo l'abbiamo beccato e stiamo a nove ce ne restano cazzo ce ne restano soltanto ok qua non credo che ci sia qualcosa però per precauzione voglio essere sicuro che c'è qua dentro non ci sta niente ok fantastico ce ne restano in feria due perché io uno l'avevo già beccato quindi attenzione però adesso qua non vedo niente manco qua aspetta che forse là c'è qualcosa ho visto l'uccellino quindi con l'uccellino siamo a posto però ci dovrebbe restare ancora un altro che forse sta ok ah perfetto quindi in pratica gli uccellini erano quelli che avevo già preso spero che ci sia l'ultimo qua dentro se no siamo fottuti ok vediamo un po' non è questo che devi sbloccare ok ti serve il generale gravis lo becchiamo subito non avevo dubbio guarda che mi da me lo davi qua giù eh vabbè quindi a questo punto ci va bene anche uno anche ma no aspetta già hai fatto qua ci va bene uno forte credo allora come uno forte ci becchiamo aspetta facciamo un attimo una cosa voglio fare una bella cosa dammi un attimo il generale allora aspetta facciamo così perfetto allora il generale lo cambiamo ecco e così ci becchiamo il generale vai non ho capito poi perché stava così indietro qua dovresti farci lo generale no di qua di qua speriamo che ci sia qualcosa qua dentro e l'ultimo ok fantastico l'abbiamo beccato facci entrare perfetto e beccato tutti quanti i mini kits e anche il mattoncino russo quindi possiamo avanzare vai 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 avevamo il generale veramente che c'è se sta allucinazioni Ray allucinazioni hai perso un braccio che musica ok ok gran finale anche l'isola di Luke sempre un pochettino con il momento lo abbiamo completato alla grande naturalmente cavolo siamo quasi a 300 milioni 100% l'abbiamo sbloccato vero gente l'abbiamo già sblocchiato vabbè martoncino rosso l'abbiamo sblocchiato naturalmente anche i mini kit li abbiamo presi praticamente tutti 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 quindi a questo punto ci dovrebbe uscire qualche veicolo super figo o almeno si spera non credo che l'abbiamo sblocchiato tutti perché ci sono ancora i DLC da poter sblocchiare ok vediamo un pochettino cosa ci dai infatti si ce ne sono ancora altri quanti ne becchiamo ok soltanto due vabbè comunque è sempre meglio di niente comunque ragazzi spero come sapere questo qui vi sta vicino mi piace sempre i commenti se mi mette piacere ci vediamo se nel prossimo video e bye bye ciao